Questa è la RoboCup, è una gara internazionale sulla robotica. La facciamo anche qui a Trento da circa dieci anni, da più di dieci anni. Ed è una gara in cui si sviluppa una competizione tra squadre di diverse scuole dove mettono in gioco le loro skills sul coding. In pratica è molto interessante e utile perché si vedono scuole e squadre di tipo diverso che in qualche modo competono per degli obiettivi comuni. Per noi è estremamente significativo perché significa avvicinare i nostri studenti al coding, al pensiero computazionale, alle discipline STEM, ma significa anche sviluppare in loro una competenza trasversale che è quella di confrontarsi e lavorare insieme agli altri. Questa RoboCup, adesso qua siamo nella fase di tipo territoriale, però in questa edizione abbiamo più di 40 squadre che vi partecipano, alcune squadre arrivano dal Veneto, addirittura anche dal Friuli e dopo questa selezione ci sarà il mese prossimo una competizione nazionale a Verbania.